ciao raga primo match point thailandia vai chang c'è la possibilità di trovare la pioggia in qualifica e adesso vediamo cosa riesco a fare perché dura per adesso faccio un crono vediamo che tempo tiro fuori 1.37 e 1 da battere 1 1 1 1 1 1 1 Grazie a tutti. 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 No, vabbè, dai, devo fare il tempo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Di Thailandia. Grazie a tutti. 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 Quindi adesso sono 27 punti in un secondo Dixon Ciao al prossimo video